Alla domanda del re, voi dovete rispondere che tutte le terre maestà sono del marchese di Carabas e il re va di lì, va di su, va di giù e chiederà davvero che tutte le terre sono di Carabas e il re che da lì, va di su, va di giù felice sta a un marchese amico, marchese di Carabas e il re va di lì, va di su, va di giù e chiederà e il re va di lì, va di su, va di giù e chiederà davvero che tutte le terre sono di Carabas e il re che da lì, va di su, va di giù e chiederà a un marchese amico, marchese di Carabas grazie a tutti